Hai mai pensato che lo spazio in cui vivi può avere una grande influenza sul tuo modo di sentirti? Non parlo di igiene, materiali o colori, parlo di volume, il volume abitabile in cui vivi. Una casa in cui puoi mangiare, dormire e guardare alla tv non è sufficiente per vivere bene. Progettiamo milioni di unità immobiliari così, ma queste non sono case. Le parole stesse unità immobiliari derivano dal mostro che la rivoluzione industriale ci sta facendo credere che sia la casa ideale. Un pezzetto costosissimo di città in cui sei costretto a rifugiarsi per dormire dopo una giornata di lavoro omicidiale e da cui dovrai uscire l'indomani per ritornare al lavoro. E se non devi lavorare perché è domenica, dovrai comunque uscirne perché in casa, pardon, nella tua sfigata unità immobiliare, non puoi fare altro che mangiare, dormire e guardare alla tv o al massimo leggere. Ma nulla di più. Eccolo il nocciolo della questione. Se non abbiamo uno spazio, anche piccolo, dove rifugiarsi in casa a rigenerarci costruendo qualcosa, moriamo. Il costruire è innato nell'uomo, che sia creativo o meno. E per costruire c'è bisogno di uno spazio in cui potrai fare indisturbati. Fare senza interferire con i locali indispensabili alle funzioni primarie del dormire, del mangiare, eccetera. Ma se quando cerchiamo la casa, contiamo le camere da letto minime e poi aggiungiamo un soggiorno cucina e i bagni, non potremo fare altro che rammollirci nelle nostre unità immobiliari, intrestiti da non poter costruire e costruirci. Spaccare la legna con la scura e per la stufa è un lavoro pesante, ma ricordo ancora che soddisfazione, stanco come un mulo, a lavoro finito, rimirare la catasta ordinata. Se fossi stato in appartamento, la soddisfazione l'avrei avuta nel completare un livello di Call of Duty costruendo nulla e perdendo del tempo davanti a un maledetto schermo facendo un videogioco. 150 anni fa non si sentiva tanto parlare di depressione come oggi. Le persone però vivevano prevalentemente in case più grandi e con spazi accessori. Certo, era una vita diversa e difficile, ma permetteva di avere sfoghi e di avere gratificazioni. Per un bimbo la cameretta può essere sufficiente. È il suo spazio casa commisurato alla sua ricerca di una tana conosciuta e protetta. Ma un adulto vedo plotoni di uomini che si rifugiano nel box. Certo, è evidente, il box è spesso il locale che manca alla casa per costruire e far lavorare cervello e mani. Ma caspita, è assurdo che ci accogliamo un mutuo siderale per comprare un accidente di appartamento costosissimo e poi per fare quello che più ci piace andiamo nel box al freddo, senza riscaldamento, il 15 di gennaio e risaliamo a casa alle 11 di notte e corre a freddore. È assurdo, assurdo ma inevitabile. Inevitabile perché se anche in periferia un metro quadro di casa costa 3.000 euro, chi può permettersi di comprare un appartamento con uno o due locali in più? Con questi corsi parliamo di più di 60.000 euro, ma non scherziamo. Se hai una fanciulla a cui piace dipingere, suonare, ballare o la tua valvola di sfogo ricreativa è il canto? Finora ho parlato da uomo, ma non cambia niente, vale lo stesso discorso. E quindi qual è la soluzione? Ognuno di noi deve farsi delle domande e conoscendo la propria realtà considerare bene le priorità proprie e della sua famiglia. Certo, se in famiglia siamo tutti lettori accaniti e al massimo ascoltiamo musica in cuffia, il problema non si pone. Ma anche se il nostro spazio di ricostruzione è lo sport, allora va relativamente bene. Basta inforcare la bici e perdersi nel paesaggio circostante pedalare. Però, se ci piace anche prenderci cura della bici, lubrificarla, pulirla, registrare freni e cambio, coccolarcela un po', dove lo faremo? In camera da letto facendo attenzione a non svegliare la moglie e a non scocciolare olio sullo scendiletto? E allora, quale soluzione? Come e dove dobbiamo scegliere la casa per poterci vivere e non solo sopravvivere? La soluzione c'è, a mio parere. Anzi, sono molte e coinvolgono molti aspetti sia del vivere che del costruire. Le affronto nel prossimo video. Non perdertelo iscrivendoti al mio canale. Ti arriverà un'notifica appena lo pubblicherò. Leggevo questa frase. Un uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare.